Questo video non sa proprio da fare Allora, ieri ho parlato per due ore e mezza E come dire, mi si è eliminato tutto perché ho sbagliato tasto E... Sono arrivata a un livello di disperazione talmente alto Che questa è una cavomilla Pollente Il 14 di agosto Perché le cose non sono finite qua Magari Magari No A parte che oggi ho fatto un altro video Poi ho sbagliato di nuovo lo stesso identico tasto Che a questo punto sono io evidentemente No Si è scaricato il telefono con cui sto girando Si è scaricato il cobo in cui ho tutti gli appunti Tutte le cose che vi devo leggere E quindi adesso sono attaccata a 50 fili diversi E... Non so che altro deve succedere Beh, tra le altre cose che sono successe Stavo registrando l'audio col microfono questo qua Ma si è appena stoppato da solo Non l'ha salvato Mi ha dato zero Quindi adesso io me lo tolgo E uso il microfono che c'è integrato nella telecamera Perché... Tanti saluti Quindi si sentirà un po' peggio del solito Mi dispiace Ma io non lo giro per la terza volta tutto Porca di quella vacca Il bello è che fosse successo con un libro In cui io avrei sclerato male in continuazione E... In cui sarei pronta a insultare anche la mamma della scrittrice Potrei capirlo Ma questo libro non mi ha fatto sclerare così tanto E in confronto a molti altri di questo stesso genere Eppure dignitoso Quindi perché mi stai facendo questo? Cioè, devo essere cattiva? Mi stai dicendo che devo essere cattiva? Vabbè, ok Ma non perdiamoci Perché questo video sarà lunghissimo Infatti oggi andiamo a vedere tutto sangue e cenere Prima di cominciare vi ricordo che Qui sotto ci sono gli altri social in cui potete trovarmi E se non siete ancora iscritti a questo canale Direi che a questo punto mi merito un'iscrizione E... Mettete mi piace E commentate E fatemi sapere cosa mi pensate di questo libro E se vi diverte quanto ha divertito me Ma andiamo con ordine Sangue e cenere è il primo libro di una nuova saga di Jennifer Armentrott Che io ho conosciuto con Ilegna Zodiaco Con i libri di Melma Quindi volevo addentrarmi in questo mondo Premessa solita Se vi è piaciuto questo libro Se vi piacciono i libri di questa autrice Se vi piace questo genere di libri Questo video non vuole offendervi in alcun modo È soltanto un video in leggerezza E soprattutto Mia confessione Io mi sono fatta prendere male da questo libro Il mio cervello è tornato a 12 anni E quindi voglio dire Sarei l'ultima persona al mondo Per giudicare questo genere di libri Perché in realtà mi piacciono Cioè con tutti i limiti che hanno E per questo mi fanno... Cioè per questo quando non voglio leggere niente Vado a cercare libri così Perché mi fanno ridere E vi fanno tornare adolescente Quindi se volete insultarmi Perché ho offeso la vostra scrittrice preferita Non fatelo Però se proprio non potete farne a meno Almeno siate creativi Così mi diverto Quindi siamo in un fantasy E ci sono i vampiri licantropi Anche se in questo libro Non si chiamano assolutamente vampiri licantropi Perché vogliono farci credere che siano altre cose Ma non è vero E le regole di questo mondo Sono dubbie in realtà Perché io Ho cercato di mettere ordine Ma non ce l'ho fatta Ma visto che la protagonista Ci fa un sacco di spiegoni Nel primissimo capitolo Io direi che andiamo ad affrontare Il primissimo capitolo insieme E ci metteremo un po' Per... Ho un'etichetta qui che mi dà fastidio Dicevo ci metteremo un po' Ad affrontare questo primo capitolo Perché tra i tre avvenimenti in croce Che succedono La protagonista ci fa Una miriade di spiegoni Perché introdurre il mondo Pian piano Faceva brutto E qua si evince già Le capacità brillanti Di scrittura Di Jennifer Almentrout Che non ha capito Come si introduce una storia Però Pace Il primo capitolo inizia con Hanno trovato Philly questa sera Appena fuori dalla foresta di sangue Morto Questa conversazione La stanno avendo tre soldati Che stanno giocando a carte In una bisca E la protagonista Si è seduta con loro a giocare E ha assistito A questa conversazione Ora Questa è la primissima riga Premetto che Philly Un soldato qualsiasi E non ci fregherà mai Niente di lui E quindi Il Ci fa ridere Che il libro inizi proprio con lui Se le sembrava un bel modo Iniziare questo libro E conosciamo La protagonista Che ci dice Che lei si è seduta lì Perché Questi tre uomini Non stavano Non le facevano percepire nulla Perché Di solito Non indagavo Per scoprire se qualcuno soffriva Farlo senza una ragione Mi sembrava terribilmente invadente Ma tra la folla Era difficile controllare Quanto concedevo a me stesso Di percepire Mi era proibito fare alcunché Salvo ignorarli Non potevo parlare del dono Concesso mi dagli dei E mai poi mai Avevo potuto spingermi Oltre le percezioni Per fare effettivamente Qualcosa in merito In pratica La protagonista Ci sta dicendo Che ha un dono Man mano Che andiamo avanti Scopriremo Che questo dono Si potrebbe semplicemente Chiamare empatia Però Se la chiamavo empatia Era troppo brutto In pratica Lei può percepire Il dolore Altrui Che sia fisico Ed emotivo Però ci sta dicendo Che tra la folla Non riesce a controllare Il suo potere Quindi percepisce Anche cose Che non vorrebbe percepire Mentre di solito Con una persona singola Si deve Concentrare Per riuscire a percepirne Le emozioni Ora Lei ci sta dicendo Sempre che Si è avvicinata A questo tavolo Ed è Si è seduta con loro Perché queste tre persone Non le Facevano percepire Nulla Il problema è che Lei è comunque Nella stanza Piena di gente Quindi Se il problema Era il fatto Che La folla Ti imponeva Di percepire Le percezioni Di qualcuno Perché erano Troppe Tutte insieme Da non sentire Allora C'è un problema Perché Tu sei comunque In una stanza Piena di gente Non è che basta Sedersi al tavolo Con tre persone E allora Non percepisci più niente Cioè il massimo Allora che Seguendo una logica Tu potresti fare È Concentrarti solamente Su quelle persone Così Ignori Tutto il resto Però se tu Non ti stai concentrando Su quelle Tutto il resto Dovrebbe più Marti addosso Lo stesso Però Vabbè Ma perché Seguiamo la logica Qua Fin dalle prime righe Quindi ci sta La protagonista Ci sta facendo capire Che lei però È una Ragazza speciale Perché ha questo dono Concesso Gli dà le idee Certo Fino alle prime righe Quindi ci sta facendo capire Che lei è speciale Perché Ha questo dono Concesso Dagli dèi E dopo Scopriremo Che lei È la vergine Prescelta Spoiler Nessuno Sa A che cosa Serva davvero La vergine Prescelta Praticamente C'è tutta Questa religione Secondo cui I secondogeniti Delle famiglie Diventano Ascesi Ovvero Vengono benedetti Dagli dèi E diventano Praticamente Immortali Quindi E si dice Che la vergine Prescelta Li salverà Tutti Però Veramente Non c'è Nessuna Leggenda Su di lei E non c'è Nessun motivo Per cui Tutti i mortali Tutti gli ascesi Dovrebbero Venerarle E aspettare Che lei Ascenda O meglio Gli ascesi Dopo Cioè Si capisce Perché La trattino Come una Principezza Però Non si capisce Perché anche I mortali Dovrebbero Sostenere Questa cosa Della vergine Non si capisce Da cosa Dovrebbe salvarli Perché appunto Ci si aspetterebbe Almeno una leggenda Che spiega Perché stavano Aspettando Un prescelto Non c'è Non c'è Parlandoci di questi Tre soldati Con cui è seduta Ci fa lo spiegone Su come funziona Il loro mondo Erano guardie Provenienti Dall'Alzata La muraglia Rocciosa Costruita Con la pietra calcarea E ferro Ricavati da miniere Di picchi e lisi Tutte cose Che ci fregano Nella prima pagina Da quando era finita La guerra dei due re Quasi quattro secoli prima L'Alzata Re chiudeva Masadonia Nella sua interezza E ogni città All'interno Del regno di Solis Versioni più piccole Avevano circondato Villaggi e campi di addestramenti Comunità agricole E altre cittadine Scarsamente popolate Quindi Immaginate Ogni singolo centro abitato Che è rinchiuso Da delle mura Fattibile direi Assolutamente Fattibile Come Come Cioè Io mi immagino Le persone che lavoravano Nell'edilizia Che sono diventati Nuovi ricconi Perché ha costruito Tutte queste mura Che poi Non ci saranno più Le montagne Se dovrai Se hai dovuto Costruire tutte Queste mura Ma poi come fa Non ha senso Poi dice dopo Che ci sono i cacciatori Che si occupano Dei commerci Però Stanno via mesi E non si capisce bene Come Come possa funzionare Economicamente Un regno così In cui Ogni singola cittadina Dovrebbe essere Assolutamente isolata Dalle altre A meno di Appunto Poche persone Pochissime Che si spostano La protagonista Che ve lo dico io Vabbè Si chiama Poppy E' una che se la tira Tantissimo Praticamente Ci sta dicendo Che è in questo luogo In cui lei non dovrebbe stare Sta facendo cose Che lei non dovrebbe fare Perché è speciale Imprange le regole E ci dice Che Nonostante i tre soldati Sia lì a giocare Erano armati Fino al collo Come me E il suo La sua definizione Di essere armata Fino al collo E' avere un pugnale Wow Un pugnale Quante cose che hai Sentite come se la tira Forse mi trovavo ancora Sul punto di fare Qualcosa di incredibilmente Avventato Inappropriato E assolutamente Proibito Ma non ero così sciocca Ad arrecarmi In un luogo come La perla rossa Senza un'arma Per proteggermi La capacità di usarla E la prontezza di spirito Per ricorrere a entrambe Senza esitare Ora Uno dirà Dov'è cavolo E' andata a finire Semplicemente Io prima l'ho chiamata Bisca Però in realtà È tipo Un locale Super Alla moda Evidentemente In cui la gente Va a giocare a carte Va a bere Va a fare le zozzerie Si trovano In questo locale Tanti soldati Tanto le persone In attesa Di ascendere Quindi ci sono Praticamente Sia quelli Che saranno La nobilità Sia i poveracci Per strada C'è di tutto C'è il cameriere Che gira Con lo champagne E il vassoio E poi però Giocano a carte Tre soldati Semplici Ma dove lo trovi Un posto così Poi non si capisce Per quale motivo Dovrebbe essere Un posto così Pericoloso Se tanto Nessuno Sa chi sei Lì ci va Gente Di ogni rango Quindi Si può presupporre Che non ci sia Gente che si sgozza Lì Nella stanza E appunto Ci sono un sacco Di Sia Ragazze Che lavorano lì Sia Lady in ascesa Quindi quelle Che poi Saranno benedette Agli dei E che sono Lady Non si sanno Dipendere Non sanno Niente Quindi Non è Un posto pericoloso Che lei Deve farci vedere Che è brava E che sa dipendersi E che è Una wonder woman Però Sono tutte cazzate Comunque Passate due pagine Torniamo Al nostro dialogo Infatti L'altra guardia Chiede Morto Come Fillet È morto Cioè Ci sono passate Veramente due pagine Io mi ero anche Già dimenticata Di questo dialogo Ma torniamo Al povero Fillet Che sentiremo Nominare Adesso Praticamente Mai più E l'altra Guardia Gli risponde Non era solo Morto Fillet È stato Distanguato La carne È stata Masticata Come se L'avessero Attaccato Dei cani Selvatici E poi È stato Fatto a pezzi E sapete Cosa significa Continua Eric Devono essere Vicini Un attacco Di E poi E poi La conversazione Viene interrotta Perché al tavolo Con loro C'è una lady Però Questa conversazione Non ha senso Perché Dopo Questa conversazione Che sembra così Misteriosa In realtà Le creature Di cui stanno parlando Si nominano Tranquillamente Non è una cosa Segreta Che non si può Nominare Non è neanche Un attacco Così Imprevisto Nel senso Ci sono Appunto Queste muraglie Perché Perché Nel tutto Il resto Del mondo Ci sono I creven Che sono Praticamente Dei Licantropi Versione Cattiva Nel senso Che non è Che si trasformano Solo con la luna piena Diventano Mossi Schifosi E basta E che Uccidono Tutto quello Che si trovano Intorno Quindi Se tu Sei un soldato Stai parlando Del fatto Che un tipo È stato Trovato A pezzi Così Non è Che tiene Il mistero Su che cosa Lo abbia Dilaniato E dice Ah come se Lo avessero ucciso Dei cani selvatici No Perché Sai Perfettamente Che ci sono Ste creature Che si chiamano Creven Quindi Tu Se devi Parlare Con un altro Che sai Già Che conosce Ste creature Gli dici È stato Maciullato Dai creven Non fai Tutta Sta Pantomima Che serve Soltanto Per tenerci Un briciolo Di mistero Ma Non ha Senso Così Mi schierai la gola Volevo chiedere Chi fosse Pille E sapere Se si trattava Di una guardia Dell'alzata Di un cacciatore E qua Altro spiegone Perché evidentemente Non sa scrivere Ovvero Un membro Della divisione Dell'esercito Che portava I dispacci Tra città E scortava Beni e viaggiatori I cacciatori Passavano Metà dell'anno Di fuori Della protezione Dell'alzata E la Dinger Allunga Una delle occupazioni Più pericolose Perciò Non viaggiavano Mai da soli E alcuni Non facevano Ritorno Purtroppo Alcuni Di quelli Che tornavano Non erano Più gli stessi Alle loro calcagna Li seguiva la morte Che diffondeva In controllata Maledetti Ovvero Appunto Se ti morde Un creven Se sei fortunato Muori Se sei sfortunato Ti picchi Gli la maledizione E diventi Uno di loro Ancora una volta Non c'è Nessun senso Logico In questa cosa Però Vabbè Quindi Ci sono tutte queste città fortificate Chiunque esca E ha un attacco dei creven Rischia di essere maledetto Anzi L'unica persona Che si dice Che è scampata A un attacco dei creven È lei Spoiler Ed è proprio per questo Sembra Che lei sia la prescelta In realtà anche qua Ci sarebbe da ridire Perché In alcune parti Ti dicono Che lei è la prescelta Perché è sopravvissuta All'attacco dei creven All'età di 3-4 anni Non mi ricordo E però In altre parti Ti dicono Che lei è Nata prescelta Quindi Delle due L'una O sei sopravvissuta All'attacco dei creven Quindi hanno capito Che sei speciale O sei nata Prescelta E quindi Sei prescelta Dall'inizio Non si capisce Perché ti abbiano Lasciato libera In territori pericolosi In ogni caso Torniamo ai cacciatori Appunto Queste persone Stanno fuori Dall'alzata Per mesi E quando tornano Rischiano di essere Stati morsi Però Non c'è nessun Voglio all'ingresso Non c'è nessuno Che controlla Gli ingressi Quindi dice No tu non puoi entrare Perché devi stare In quarantena A vedere se ti hanno Mosso O se sei maledetto Oppure no Nonostante Venga detto Che la maledizione È una cosa Incontrollata Appunto Che se la prende uno Rischia di infettare Un sacco di altre persone Non c'è nessun Cazzo di controllo Ma di più Devono essere Praticamente I cittadini A dire Sì questo qua È maledetto Portalo via E nessuno lo fa Perché Perché Quelli maledetti Vengono bruciati In pubblica piazza Ora Che senso ha Bruciare Delle persone Che sono Tuoi Concittadini E In pubblica piazza Non hanno fatto Niente di male Semplicemente Stavano lavorando Per il governo E sono stati morsi La cosa Minima Che tu puoi fare È Farli Morire Dignitosamente Invece no Però Questo vedremo Perché è una cazzata Perché Questa cosa Del farli morire Diritosamente Sarà Tipo Una delle cose Che distingue I buoni Dai cattivi Non si capisce Perché comunque Il governo Dovrebbe funzionare In questo modo Non ha alcun Minimo senso Ma Vediamo un attimo Come funziona Chi governa Queste città Allora appunto La guerra dei due re Quindi uno dei re Ha vinto Ed è appunto Il regnante Di Masadonia In ogni piccola città Però ci sono Dei nobili In questo caso Ci sono Il duca E la duchessa Che sono Degli ascesi Quindi Sono immortali Eccetera E governano Quella città E appunto Come vi ho detto I secondogeniti Possono Ascendere E tra l'altro Non sembra una cosa Che puoi scegliere Anzi Anzi Viene detto Che la mamma Della protagonista Ha dovuto Chiedere un favore Alla regina Per non ascendere E anche qua È una cazzata Perché Avere tantissime persone Immortali Vuol dire Che queste persone Immortali Le devi mantenere Poi vedremo come Quindi tu Tecnicamente Dovresti volerne meno Cioè Essere una cosa Super esclusiva E quindi Non obbligare Tutti i secondogeniti A diventare Ascesi Ma soltanto Chi vuole E dovresti anzi Incentivare Chi non vuole A fare altri figli Perché I terzogeniti Via dicendo Invece Sono obbligati Ad andare A servire gli dèi E quindi A essere donati Praticamente Allo Stato Per servire gli dèi Tente veramente Dopo vi spiego meglio Vabbè Ci spiega Mentre gira Lì Per il locale Che lei è la Vergine La prescelta Che il giorno Del suo diciannovesimo Compleanno Sarebbe ascesa Però nessuno Le ha mai detto Che cosa succede Dopo l'ascesa Lei sa Che la sua Sala diversa Da quella Dei secondogeniti E i secondogeniti Appunto Diventano Immortali E vivono Lì come Lord e Lady Nella corte E in pratica Non fanno un cazzo Tutto il giorno Un fratello Nonostante Non fosse un secondogenito È stato fatto Ascendere Come favore Nei suoi confronti Perché lei Era la Vergine E quindi Da quel momento Lei non lo ha mai visto Però Le mandava Un sacco Non la riconosce Perché intanto Come Vergine Deve avere il velo Davanti agli occhi Cioè praticamente La copre fin qua E Che le copre Anche i capelli Però Prima o dopo Ci dice Che tutti sanno Che lei ha i capelli rossi Adesso Lei invece Ha un mantello Quindi ha I capelli coperti E ha una maschera Che comunque Le lascia scoperta Questa parte di viso E tu amica mia Sei veramente Furba A tenere la stessa Parte di viso Che vedono tutti Scoperta Certo È difficile Riconoscere una persona Solo da questa parte Però Magari Visto che sia una figura Pubblica Qualcuno ce la fa Ma vediamo Perché lei È alla perla rossa Sta osservando Una guardia Che sta andando Via con una signorina E ci dice Ci sono due porte Ci dice Quella a sinistra Guardava sulle scale E su stanze private Dopo Dove Secondo I racconti di Britta Che è la tipa Poverita Poi ha fregato i vestiti Accadeva di tutto La guardia Guidò la donna Mascherata Verso sinistra Lui aveva domandato Lei aveva consentito Qualsiasi cosa Facessero di sopra Sarebbe stato gradito E voluto da entrambi Indipendentemente Dal fatto che Durasse poche ore O una vita intera Cioè qua Il consenso Questa storia Raggiunge livelli Che sono anche Ridicoli a volte Comunque Mi sono fermata Su quella porta Per molto tempo Dopo che era stata Rinchiusa Era un altro Dei motivi Per cui mi ero Recata lì Quella notte Per provare Piacere con qualcuno Scelto da me Avrei potuto Se lo avessi desiderato Ok Cioè Penetamente Questa fase Avrei potuto Se lo avessi desiderato Adesso io giro Una sola pagina Che è tanto così Però Anche se non sapevo bene Come avrei potuto Trovarmi In una situazione In cui Quell'opzione Fosse Anche solo Disponibile Ma hai fatto La gradassa Fino adesso Hai detto Se avessi voluto Se volessi Potrei farlo Quindi Tu dovresti Già Cioè Nel senso Provaci con le persone Non fare la gradassa Se poi alla fine Sei praticamente La ragazzina Timida Delle medie Cioè Non raccontarcela Comunque Ancora una volta Tra questa scena In cui lei Vede i tipi Andare in camera E quello Che succedeva dopo Ci sono altri Spiegoni Infatti Ci dice Che Gli ascesi Avevano delle guardie Personali Perché Anni prima O comunque Capitava Che Ricevessero Degli attentati Per Ottenere un riscatto Intanto Da chi Perché Boh Perché Perché se ti frega Di un lady O una lord In meno Niente Comunque Quanti attentati Quanti attentati Quante guardie Vediamo insieme Gli ascesi Zero Mai Una volta Guarda ancora intorno Arriva a una stanza Chiusa Da delle tende E Sta per Aprirle Per entrare E una Donna Dai capelli neri Le si avvicina E dice Non credo Che tu voglia andare lì E lei Con i suoi occhioni Innocenti La guarda E chiede Perché no Stanno solo ballando Solo ballando Lo sguardo Della donna Si posò Sulla tenda Alle mie spalle Alcuni Dicono Che danzare È come fare L'amore È tipo Ok Beh Amica Sei andata La perla rossa Per un motivo Evidentemente Ti sei stupata Di fare La vendita Di sto cazzo È la tua occasione Entra In quella In quelle tende No Vabbè Comunque Lei Ci rimane Perché evidentemente Vuole dirlo Ma non lo vuole fare E quindi La donna Fa un sorrisetto E dice Ah prima volta E lei dice No Perché cosa Te non fa credere E la donna Continua dicendo Ah è la prima volta Che la vergine Viene alla perla rossa Quindi è stata Sgamata In tre secondi Poppi Poppi Si fa venire L'ansia Perché ha paura Che lo Lo vada a dire Al duca Per avere Il favore Degli ascesi Ma la donna Le dice No A me Non frega niente Di avere il favore Degli ascesi Cioè Frega cazzi E lei ci rimane male Ci rimane male Non solo perché La donna ha capito Che lei è la vergine Tra l'altro Dice che Potrebbe essere Una sensitiva E quindi Questo fa presupporre Che altre persone Abbiano poteri All'interno di questo libro Nessuno ha poteri All'interno di questo libro Ok In ogni caso Ci rimane male Perché le uniche persone A non volere il favore Degli ascesi Sono i caduti Ovvero Quelli che stanno Dalla parte Del re Sconfitto Nella guerra Dei due re E E che credono Che il principe Castle Sia il legittimo Re del trono Il principe Castle E' anche Conosciuto Come lo scuro Quindi E' un cattivone Che fa parte Del regno Sconfitto Di Atlantia E E' D'è proprio Lo scuro Che comanda I creven E i creven Sono stati creati La prima volta Dagli Atlantiani Quindi lei Ci rimane male Perché Pensa di avere davanti Una traditrice Del suo popolo Tra l'altro Cerca di sentire Le sue percezioni Per capire Se Effettivamente Potesse essere Una caduta Però Non prova dolore Quindi lei dice Eh ma Se non prova dolore E' quello Che ti spinge A fare queste cose Quindi Non è vero Non è che devi soffrire Per essere Una traditrice Magari credi In altri valori Però vabbè Arriviamo al dunque Davvero Cosina Si guarda intorno E vede Victor Che è la sua guardia privata Praticamente Suo padre Non è veramente suo padre Però il rapporto è quello E quindi Ha l'ansia Perché potrebbe essere Beccata E la donna Che sta ancora parlando Con lei Le dice Guarda vai di sopra Nella prima stanza Entra E' vuota Puoi aspettare lì Quindi lei va su E si fida Va su Tempo di mettere Piede Nella stanza E viene Afferrata Da uno Che le dice Tipo All'orecchio Questo non me l'aspettavo Direi che in questo libro Ha poco Del bad boy Cioè Non la tratta Mai male Si preoccupa Della sua Incolumità Non in maniera Da padre padrone Ma Soltanto Cioè Da persona Quasi normale Alla fine Ha soltanto qualche picco Da padre padrone Verso la fine Ma perché lei È diventata veramente Insopportabile E lo capisco Però Devo dire Che tra tutti I I personaggi Mascheri Di questo genere Di libri Lui È abbastanza Dignito Se non fosse Che parla troppo In momenti Intimi Che Non si fa Comunque Noi siamo arrivati A questa scena In cui Il bad boy L'ha tirata Nella stanza E l'ha abbracciata Però Non continua Subito Questa scena Perché lei Lo guarda E ci deve Far partire Lo spiegone Su chi fosse Hawk Flynn Ovvero Una guardia reale Che è giunta Dalla capitale Dopo anni di servizio E si è E' stato Trasferito Da loro Poppi Lo conosce Già Perché ha Passato Giornate Intere A fissarlo Mentre lui Si allenava E in pratica Ha già sentito Le formichine Nel suo Intimo Però Ovviamente Lui È figo I capelli neri E gli addominali E la fossetta Sulla guancia E ha gli occhi Di colore Miele freddo Cosa vuol dire Miele freddo? Niente E inoltre Ci fa sapere Che Hawk Soffriva Sempre E che quindi Nascondeva qualcosa Nel suo intimo E non si vedeva Da fuori Però Due frasi Prima Ci ha detto Che Lei poteva Percepire Le sofferenze Delle persone Ma non erano cose Che si potevano Vedere da fuori No? Quindi Cioè Ci stai Dicendo la stessa cosa Non è una cosa Che rende Hawk speciale Se lo fanno tutti Lui Le salta Praticamente Addosso La Inizia a limonare Perché crede Che lei Sia britta Che evidentemente Era una sua Amante Lei Si scosse Dicendo Non sono io Lasciami in pace No Lei ci sta Lei ci sta Staissimo Perché evidentemente Ha risolto Il problema Della timidezza Solo che Lui Arriva A un certo punto E si stacca Cioè Lei sta già sentendo Le farfalle nello stomaco Le cose Le Cioè Ha già il piatone È già Tutto a posto Lei si sta facendo le pare Perché Oh mio Il mio primo bacio Lui si stacca E le dice Senza dubbio Non sai che credevo Che fossi Come te ne sei accorto Sbottai Perché l'ultima volta Che ho baciato La proprietaria Di questo mantello Mi ha quasi risucchiato La lingua E lei Tipo Pensa Avrei dovuto farlo Anch'io Non sembrava piacevole Esatto Vabbè Comunque Lui le chiede Chi sia Lei non glielo vuole dire E lui Invece Continua a chiederle Perché non mi hai fermato E lei Continua a non rispondere Tra l'altro Mentre fanno Tutta questa conversazione Non è che si sono alzati E si sono rimessi a sedere Sono uno sopra l'altro Cioè un sandwich Praticamente Continuano a parlare così L'unica cosa in comune Con tutti I protagonisti Dei libri di Melma Lui È che è uno sbruppone Però lo fa in modo abbastanza simpatico Beh comunque Lei continua a non fermarlo Però intanto pensa Eh ma se sapessero Che sono qua Sarei esiliata dal regno Vabbè Cioè abbiamo capito Che tutte le cose Gravi che fa Da uscire di casa Andare a posti Come questo Eccetera Non vengono mai Beccati Non vengono mai puniti Vengono punite Le cazzate Vabbè Appunto ci viene detto Che lei è importante Lei è speciale Lei è tutto Però poi Alla fine Quando è da tenere Veramente sotto controllo Nessuno lo fa Mai In ogni caso Loro continuano A pomiciare Lui la stoccaccia E fa robe Il problema È che quando È tanto così Da toglierle Tutto il vestito Bussa Ehm Com'è che si chiama Kir Ker Tipo Kiran Kiran Che lo vedremo In realtà nel finale Ma è Un'altra guardia Mandata sempre Dalla capitale Insieme a Oak Quindi Kiran Lo obbliga A uscire Io Veramente Conoscendo il finale Non ho idea Del perché Lo obbliga A uscire Non ha proprio Minimo Senso E E quindi Oak La lascia lei Dicendo Torno subito Resta qua Lei si fa venire La scaga E se ne va Torniamo al palazzo E conosciamo La sua ancella Ovvero Tony Sembra Tony Così Non so come Cacchio Si legga Si legga Si C'è È scritto Tavni Però Tony To Bo Per un Secondo Vi posso Concedere Di dirmi Come si Pronuncia Sto Cazzo Di nome Fa Alcune Scorribande Con lei E visto Che la sera precedente Era andata A cercarla Ma lei Non c'era Le chiede Dove fosse E quindi Le confesso Di essere Andata La perla Nera Però Non dice Assolutamente Di 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 Cosa Stava Per fare E tra l'altro Dice Mi ero svegliata In perdono Bizzarra frustrazione Che si Che si era Trasformata In un dolore Al petto E al basso Mentre Chissà Da cosa è dovuta Poi Lei è un po' Comportista Perché tipo Appunto Vabbè Tony è sua amica Perché è obbligata Ad essere la sua amicella Però Mi sembra Palese Che se Avesse Voluto denunciare Qualcosa L'avrebbe Già fatto Ma soprattutto Che sei 24 ore al giorno Praticamente A contatto Con questa persona È ovvio Che un po' Ti vuole bene Invece Lei Cioè È proprio ovvio Si capisce Da come si comporta Invece Lei fa la paranoica Per niente Lei ha I problemi Di paranoia In ogni caso Qua scopriamo Che Appunto Gli dei Sembrano Degli entità Vere Esistenti Che le persone Possono vedere Infatti Vengono a Quando Ascendono Vengono Benedetti Direttamente Dagli dei Che fanno Qualcosa Quindi gli dei Esistono Però Gli dei Vedono E sanno Tutto Quindi Lei Pensa Io ho fatto Un sacco Di cose Che non avrei Dovuto fare Se gli dei Mi avesse ritenuta Indegna L'avrebbero Già fatto Quindi Non mi dovrei Preoccupare Di quello Che sto Facendo Va bene Intanto Victor Va a Chiamarla Perché C'è un Maledetto Quindi Loro Devono Intervenire Vi ho detto Appunto Che Questa Questione Dei Maledetti Non ha Senso E L'hanno Inserita Solo Per far Sembrare Buoni Lei Lei E Victor Che Vanno A casa Di Questi Soldati Maledetti Per Ucciderli Prima Che Vengano Presi Dal Dal Duca E Bruciati In pubblica Piazza Io Salterei Tutta Questa Parte Perché Non ha Senso Perché Proprio Questa Missione Non ha Il senso Di esistere Tra l'altro In questo Capitolo Ci sono Un paio Di Scene Che Sono State Messe Lì Perché Creare Hype Però Sono Inutili E Quindi Non si Scrive Così Un libro Non puoi Creare Una Scena Che Serve Per Introdurti Qualcosa E Poi Alla Fine Quel Qualcosa Non esiste Tipo Vanno In casa Di Nascondendo Nascondendo Per Non Ucciderla Cosa Succede Quindi Chiedono Alla Madre Di Questa Bambina Dov'era Figlia E Lei Dice No L'ho Portata Da Un'altra Famiglia Perché Essendo In Casa Mio Marito Che È Maledetto Non volevo Che Vedesse Fine Non Indagano Non Chiedono Di Vedere La Figlia Tutto A Posto Altra Scena Il Soldato Maledetto Gli Dice Che Un Suo Commilitone Era Con Lui Ed Era Stato Morso Anche Lui E Solo Che Questo Commilitone Viveva Nel Nella Camerata Con Altri Soldati Quindi Loro Di Nuovo Sono Già In Panico Perché Dicono Cavolo Magari È Stato Preso Dal Virus Qua Che Non è Un virus Vabbè Dalla Maledizione E Ha Morso Tutta La Camerata Quindi Ci Troviamo Con Uno Stuolo Di Kraven Senza Poter Fare Niente Vanno A Casa Del Padre Di Questo Secondo Soldato Perché Hanno Scoperto Che Era Passato Da Lì E La Scena Finisce Con Il Padre Che Gli Dice No L'ho Ucciso Io Fine Non Controllo Non Non Guarda Niente Che Io Dico Ma Non Era Una Cosa Pericolosissima Dovesti Accertarti Al Mille Per Mille Che Quello Che Stanno Dicendo È Vero Invece No Quindi Vabbè Poi Tra l'altro Lei Si mostra Alla Moglie Del Soldato Che Sta Per Morire E Poi Non Vuole Però Che Si sappia Che La Vergine È In Città E Che Ha Un Tocco Magico Perché Lei Tocca La Moglie Del Soldato E Così Facendo Può Tipo Istillarle Dei Sentimenti Positivi Che Andranno A spegnere Il Di Regole Il Problema È Che Non Si Capisce Da Chi Dovrebbero Essere Fatte Rispettare Queste Regole Nel Senso Che Lei Non Può Parlare Tecnicamente Con Gli Altri In Pubblico Quindi Se Una Persona Ne Si Avvicina E Inizia A Parlarle Lei Non Può Dire E Amico Io Non Posso Parlarti Dovrebbe Tecnicamente Essere O La Sua Guardia O La Sua Ancella Dire All'altro La Vergine Non Può Parlare E Portarla Via Invece No Nessuno Si Prende La Briga Di Fare Queste Cose Però Quella Che Viene Punita Per Il Suo Comportamento È Sempre Lei Non Ha Senso Sta Cosa In Particolare Il Giorno Dopo Questa Missione Per Uccidere Il Maledetto L'altra Sua Guardia Che Si Chiama Rylan La Porta A Fare Una Passeggiata Perché Lei Può Fare Una Passeggiata Al Giorno Stanno Passando Per Il Corridoio E Un Lord Che È Lord Maisen Le Si Avvicina Le Si Avvicina E Dice Devo Parlarti In Privato Tipo Sono La Virgine Non Posso Allontanarmi Con Un Uomo Così E No Lui Si Impone Lei Deve Andare Con Lui La Sua Guardia Del Corpo E Lui Come Un Pesce Lesto Non Fa Niente E Lui La Porta Tipo In Un In Un Posto Privato La Palpeggia La Tocca Ma Che Cazzo Vuoi E Fai Il Viscido Terribile E Tra l'altro Le Dice Lei Cerca Di Svicolare Quindi Dice No Mio Signore Devo Andare Sai Com E Lui Dice Mi Sento Insultato Ed è Una Frase Uguale A Quella Che Va Detto A Lei Quindi Tutto Ciò Fa Supporre Che Lord Mason Sia Venuto A Sapere Che Lei Era La Perla Rossa E Che Era Con Uno E E Quindi Che La Sta Per Denunciare Al Duca Invece No Invece No Questa Scena Non Avrà Nessun Seguito Zero Zero Perché Metterla Perché Metterla Tra l'altro Dopo Lei viene Salvata Dal Fatto Che Dal Piano Di Sotto Si Sentano Un Sacco Di Urla Quindi Corrono Al Piano Di Sotto E Che Cosa C'è Una Povera Lady In Attesa Quindi Una Di Accendere Che È Stata Uccisa In Un Salone E Lasciata Lì Col Collo Spezzato Le Gorne Spostate Con Due Segni Sul Collo E Già Qua A Pagina 50 Neanche Siamo Abbiamo Capito Che Si Tratta Di Vampiri Per Forza Di Cose Ora Sappiamo Come Funzione In Questi Libri Quindi L'unica Intelligente Per Forza Lei Quindi Lei Capisce Che Deve Esserci Un Caduto Nel Castello Ma Ancora Di Più Deve Esserci Un Atlantiano Quindi Capiamo Che Gli Atlantiani Sono Vampiri E Dicono Ovviamente Lei Arriva Al Fatto Che Non Può Essere Un Creven Perché Il Creven Ti Devatta Non E Ti fa Due Forellini Sul Collo E Quindi Ne Parla Con Victor Dopo Andrà In Biblioteca Cosa Che A lei Tecnicamente È Vietata Per Andare A guardare Un libro Con La storia Del Regno Per Controllare Che La loro Versione Avesse Un senso Ora Perché Non ci Va Victor Invece Che Andarci Tu Visto Che Tu Rischi Di Essere Malmenata Per Sta Cosa Anche Perché Non è Che Sei Tu Che Puoi Andare A dire A Duca No Guarda Secondo Me C'è Un Atalantiano Nel Tu Palazzo No Dovrà Essere Per Forza Victor Quindi Fallo Fare A Lui No Lei Deve Essere La Donna Indipendente Anche Quando È Inutile Tra l'altro Dopo La morte Di Questa Lady Ovviamente Anche La sua Ancella Toni È Triste E Lei Non Può Capire Che Lei È Triste Normalmente Come Fanno Le Persone No Indirizzare Le Percezioni Su Di Lei Scoprì Che La Sua Tristezza Riecheggiava La Mia Non Era Dolore Profondo Di Una Perdita Personale Ma Quello Che Accompagna Ogni Morte Soprattutto Una Così Insensata Amica Ma Ti Serviva Il Tuo Potere Per Sapere Sta Cosa È Morto Uno Le Persone Sono Tristi È Grazie Il Cazzo Lo Vogliamo Mettere Quindi Sono Arrivati Al Fatto Che Ci Deve Essere Un Atlantiano Lì Con Loro Il Problema È Che Il Duca Mette A Tacere Tutte Queste Voci Quindi Capiamo Anche Che Se Il Duca Mette A Tacere Questo Omicidio Evidentemente Sta Cercando Di Nascondere Qualcosa Forse Tra L'altro Vediamo Lord Mason Che Guardava La Scena Del Del Crimine Questo Punto Abbiamo Già Capito Chi È Il Colpevole Lei Ci Metterà Una Cosa Come Altri Dieci Capitoli Però Va Bene Comunque Nonostante Sospettino Che Ci Sia Un Atlantiano Nel Palazzo E Lei È Tra Le Persone Più A Rischio Perché Lei È Speciale La Vergine La Prescelta Rilan La Porta A Fare Un Giro Nel Giardino Guardare Le Rose Vediamo Anche Che A Limitare Nel Giardino Ci Sono Degli Alberi Che Copron Completamente Una Parte Di Recinzione E Lei Ci Dice Che Quella Parte Recinzione È Rotta E Che La Usano Lei E Victor Per Uscire A fare Le Lui Non Rinchiuso Lì Per Forza E Inoltre È Irresponsabile Che Non Denuncia Il Fatto Che Il Muro È Crollato E Metta A Rischio Tutte Le Persone Che Sono Lì Dentro Ma In realtà Scopriamo Che Non È Così È Ancora Peggio Tutti Sapevano Che Quel Muro È Rotto Nessuno Mosso Un Dito E Allora Che Cosa Abbiamo A Fare Le Mura Fammi Capire Sono Lì A Guardare Le Rose Poco Lontano Dove Il Muro È Rotto Quando Rylan Viene Seccato Da Una Freccia Di Dritta Al Cuore E Un Caduto Lì Si Avvicina Per Rapire Poppy Che Però È Ripeto Exina Quindi Col Suo Coltello Cerca Di Ferirlo Riesce A Ferirlo Due Volte Lui Non Riesce A Prenderlo Se non avevo capito perché diamine fosse scappato via Nel finale L'ho capito Aveva un senso Praticamente Quando viene colpito Lui fa un verso inumano E poi Le promette Di Tornare a ucciderla E sfamarsi Del suo sangue E Delle sue interiora E poi Se ne va Tra l'altro La gente Ha sentito Un trambusto assurdo In giardino Ci mettono una cosa Come 20 minuti Ad arrivare Il Ryland È già morto Lei è già pianto Praticamente Gli ha già fatto la cerimonia E solo dopo Arrivano altre persone Dalla freccia Che è stata usata Per ammazzare L'hyland Capiscono Che appunto L'aggressore Era un caduto Perché c'era il motto Dello scuro Sulla freccia Che è Da sangue E cenere Noi risorgeremo Tipo Pensano che Nel giardino Ci fosse proprio L'oscuro Che stesse cercando Di rapirlo A parte che è una cosa Stupida Perché se hai milioni Di persone Che lavorano per te Perché dovresti andarci tu Ehm Soprattutto C'è lo scuro Colui che Comanda e crame Super figo E poi si fa sconfiggere Da una scema Ma secondo te Vabbè Comunque È un caduto L'abbiamo capito Tutti È così Per forza E la vuole rapire Non si capisce Perché la vuole rapire Viene Fatta partecipare A un consiglio In cui I poveracci I poveri mortali Che lavorano E fanno le cose Vanno a chiedere i pauri Al duca E alla duchessa In particolare In questo momento Vediamo Che c'è Una Una famiglia Che ha fatto Tre figli Il secondo genito È asceso Il primo Il terzo genito Dovrebbe essere donato Per il rito Per servire gli dei Solo che Il loro primo genito È morto Di una malattia Strana E quindi Loro chiedono La grazia Di non Prendere il loro Terzo figlio E di lasciarglielo Il duca E la duchessa Si rifiutano Assolutamente Dandogli la colpa Dicendo che Gli dei Li proteggevano E che L'unica cosa Che chiedevano In cambio Era che I loro figli Li servissero Quindi Se Non l'avessero fatto Gli dei Si sarebbero arrabbiati Quindi La colpa Della loro Futura morte Sarebbe stata Solo De loro Comunque Vabbè Poppy Continua a rimanere male Però andiamo avanti In queste due Durante questa cerimonia Oak Si avvicina a lei E Inizia Un po' a parlarle Però Andiamo Veramente Avanti Comunque Lei ha perso Una guardia del corpo Quindi questa Deve essere Sostituita Vi lascio Tre secondi Per scrivere Nei commenti Chi sarà La sua nuova Guardia del corpo Viene Chiamata Dal duca E dalla duchessa Per andare In privato E annuncio Annuncione Appunto Flynn È la sua Guardia del corpo Nessuno Può vedere La vergine In molto Però Il duca La duchessa Vogliono Che le sue Guardie La vedano Perché così Se succedesse Qualcosa E le si togliesse Il velo All'improvviso Le guardie Non sarebbero Troppo sconvolte E quindi Non sarebbe Pericoloso Perché questo? Perché lei Ha il viso Spregiato Dagli Dai graffi Di un kraver Quindi ha tipo Qua tutto Fino al naso Le cicatrici E quindi Le dicono Che deve togliersi Il velo Davanti a Oak E lei tipo Porcaccia Oak Adesso capisce Che sono io E mi denuncia E sono rovinata Lei si toglie Il velo Il duca Che è solito Fare dei complimenti A quanto sgradevoli Sul suo viso Rovinato Dice A Oak Ah è veramente bella Peccato Che metà del viso Si è rovinato E Oak La guarda E le dice No Le dice al duca No è bellissima Appunto E il duca La prende ancora In giro In giro Vabbè E finalmente Presta Giuramento Però Invece Che dirle Vergine Sono A sua disposizione Per la vita Morirò Per salvarti E dice Il giuramento E Lo fa Come gli pare a lui Con la mia spada E con la mia vita Giuro di proteggerti Penelafe Ah già Lei si chiama Penelafe Quindi Poppy Vabbè Da questo momento Fino all'ultimo Io sono tuo E con questa frase La spezzata Ha fatto venire Ha fatto venire Punto e basta Anche la sua ancella Di fianco E quindi Sono tutte Accalorate Date in ventaglio A queste donne Qui rimane Il dubbio Per molte pagine Se lui L'abbia Riconosciuta O meno E quando Tornano in camera Ed è da sola Con Tony Poppy Confessa Che Oak L'ha baciata Che hanno avuto Quell'incontro E quindi Che ha L'ansia Che Oak Per fare carriera La denunci Al duca Lei non sa Se lui L'abbia Riconosciuta O meno Però Per essere sicura Che se Nel caso Non l'abbia Riconosciuta Continua Non parla Smette di parlare Cioè Non parla Con nessuno Perché così Lui non sente La sua voce E non la becca Altra scena Assurda In pratica Visto che lui È un figo Un sacco Di lady In attesa Vanno Da loro Per attirare L'attenzione Di lui Quindi Lei che Tecnicamente Dovrebbe stare Isolata E non dovrebbe Parlare Con nessuno Si ritrova A tavola Con due Lady In attesa Che fanno Cioè A parte Gossippare Fingono Di svenire Fanno cadere Le cose Così che lui Gliele raccolga Una scena Veramente Trash Nessuno Dice niente A queste due Lady E lei Dopodiché Viene chiamata Dal duca Perché La deve punire Perché ha parlato Con queste lady Che non doveva farlo Perché è troppo Intima Con la sua Ancella Perché Aveva risposto Mal alla sacerdotessa Che tecnicamente Dovrebbe insegnarle Appunto La religione Qua Della storia Del regno E qui Niente La penne Radellate Letteralmente Davanti Anche A Lord Mason E quindi Capiamo Che sono Dei Biscidi Bastardi Uscita Da questo Uscita Da questa Punizione Per fortuna A prenderla È andato Vitter Perché Non vuole Che Oc Capisca Che cosa Le facciano Un motivo Non lo so Lei ha un sacco Di levide Nella schiena Che Tony Deve Curare Quindi In pratica Dorme per due giorni Perché non riesce Neanche ad alzarsi E Deve ancora Guarire Quando I Kraven Attaccano C'è da dire Che Nonostante Ci sono scene In cui ci viene Montata una cosa E poi non la vediamo mai Perlomeno Gli attacchi Dei Kraven Ci dicono Che ci sono E effettivamente Ce li fanno vedere Quindi Poi la motivazione Per cui ce li fanno vedere È imbarazzante Però almeno Ce li fanno vedere Quindi Lei vede Che sulle alzate Iniziano a spegnersi Le fiaccole Quindi sta arrivando Questa nebbia Che porta i Kraven Non c'è Una logica Secondo cui La La Trappola Cioè La nebbia Dovrebbe Ho detto trappola Ho detto nebbia Vabbè Non c'è Nessuna motivazione Logica Per cui la nebbia Dovrebbe portare I Kraven Cioè Non sono collegate Le due cose Non ha un senso Però vabbè Arriva questa nebbia E lei Invece che A scappare Con la sua damigella Si prepara A combattere Va Sull'alzata E come viene spiegata La sua assenza Dalle stanze E la duchessa Dove i nobili Vanno a nascondersi Per la loro salvezza Perché lei Aveva paura Quindi si è chiusa In camera Non funziona Così Hai delle guardie Apposta In momenti Di Pericolo Come queste La tua guardia Dovrebbe essere Autorizzata Entrare in camera Senza il tuo permesso Prenderti E portarti Dove dovresti Essere al sicuro Non c'è Nessun Modo In cui Questa cosa Può non succedere A parte il fatto Che le sue guardie Se ne sbattano Il cazzo di lei Infatti Cioè Dopo le vedremo Tutte e due A combattere Sull'alzata E nessuno Che si è reso conto Che lei Era rimasta in camera Infatti Non rimane in camera Si mette un mantello Addosso alla vestaglia Le pantofole E va sull'alzata Non si sa come Nessun soldato La vede E riesce a prendere Un arco Perché giustamente Quando uno Viene attaccato Le armi Sono lanciate Lì per terra E nessuno Le sta usando A mettersi Su uno dei bastioni E a Lanciare Friccia A uccidere Qualche cremen Ancora qui Qui è la prima volta Che ci rendiamo conto Di cosa succede Quando lei Ci fa gli spiegoni Perché Quando lei Ci fa Cioè evidentemente Quando lei Ci fa gli spiegoni Rimane ferma Così impalata Senza fare niente Perché ogni volta Che finisce uno spiegone C'è una frase tipo Non mi ero accorta Che il cremen Era così vicino Non mi ero accorta Di quest'altro Non mi ero accorta Di quest'altro ancora Vabbè Finale Lei uccide Tre cremen In croce E questo dovrebbe essere L'apporto così grande Che lei porta Alla causa Che io voglio dire Ci sono 50.000 soldati Forse Non c'era bisogno Che tu andassi Ma se tutto fa sembrare Cioè lei Vuol far sembrare Che se non fosse Andata lì a combattere Sarebbero morti tutti Certo Poi ci dobbiamo Assorbire frasi come I cremen Avevano menti ridotte In puterefazione Ma erano comunque Abbastanza furbi Da sapere Che dovevano puntare Agli arcieri Allora Se hai la mente In puterefazione Non puoi neanche vivere Non ha senso Sta cosa Non ha proprio senso Te ne rendi conto Inoltre Se sono bestie A parte che Appunto Se tu mi dici Sono guidate Dall'oscuro Vuol dire Che in realtà È l'oscuro Che dice loro Di attaccare Prima Gli arcieri Ma poi Se appunto Mi dici Che in realtà Sono bestie Assettate di sangue Che ammazzano Tutto quello che vede E tra l'altro Alla fine dice Che Sono facili Da uccidere Perché Si distraggono Facilmente Allora Non sanno Che devono attaccare Prima di arcieri Non ha proprio senso Finisce la battaglia E chi Si avvicina A lei Perché la vede lì Puck Cerca di scappare E lui La blocca E lei Gli lancia Un pugnale In faccia E lui Lo schiva Però La cosa divertente È che questo pugnale Che lui ha schivato Dopo lei Ce l'avrà di nuovo In tasca E non si capisce Come L'abbia Procurato Comunque Fatto sta che Lui La blocca E la mette Tipo Al muro Cioè Si addossa Lei al muro E Visto che Lei ha usato Il suo pugnale Contro di lui Lui La riconosce Però Dice di riconoscerla Come La principessa Che aveva Incontrato La perla rossa Infatti Per tutto il tempo Lui l'ha chiamata Principessa Anche se Lei Gli ha detto Di no Tra l'altro Lei Gli ha detto Di no Perché Il termine Principessa Viene usato Solamente Per identificare Il principe Castle Quindi Il regno Sconfitto E quindi Noi abbiamo Già capito Dal primo Capitolo Praticamente Che Ok Chi sarà mai Chi sarà mai Boh Fatto sta Vabbè Appunto Ok Dice di riconoscerla Come la ragazza Della Perla rossa E Gli chiede Che cosa ci faccia Lì E qua Parte Il momento Stop porno Perché si stuzzicano Si stuzzicano Così E lì Nessuno arriva Nessuno guardia arriva Ok E lui Praticamente Se l'è presa Perché lei Se n'è andata via E non l'ha aspettato Cioè Che ridere Veramente Che ridere E E a un certo punto Lui le mette una mano Sotto il cappuccio Le tocca la guancia Quindi tocca la cicatrice E lei è tipo Porca troia Mi ha beccato E lui la guarda Ridendo E dice Ma pensi davvero Che io non sappia Chi tu sia Cioè Me ne sono accorto Nel momento In cui ti sei tolta La maschera Però Non ho detto niente Perché non mi sarebbe venuto Niente in cambio Ma visto Che tu Esci dalla tua stanza E ti metti in pericolo Forse lo dirò Perché così Mi rendi il lavoro Più facile Quindi Praticamente Dopo la lascia andare Facendole promettere Di non fare più cose Stupide Così E le dice Che continueranno Il discorso In camera E quindi Noi che abbiamo Il cervello In pappa Dal secondo capitolo Spero Spera Che sia Che sia quel discorso A proseguire in camera Invece Assolutamente No Qui partono Scene inutili Tipo lei Che gli racconta Che cosa è successo Con suo fratello E i suoi genitori Però A Oak Questa cosa L'ha già detta Vitter E Lei non aggiunge Assolutamente Niente Però dopo il racconto Dice Ecco adesso sai tutto Non hai aggiunto Assolutamente niente Sapeva tutto Già prima E in breve I suoi genitori Si erano sposati Per amore Stavano scappando Perché Volevano una vita Più tranquilla Cioè stavano scappando Sono andati via Dalla capitale Perché volevano Una vita più tranquilla Sono ritrovati In un villaggio A essere attaccati Dai Kreven E a essere uccisi Malamente Lei nonostante Sia stata morsa Non è stata maledetta E suo fratello È sopravvissuto Fine Quindi La regina Si è presa cura Di loro Perché la regina Era amica Della madre Cioè questo dovrebbe Spiegare La lealtà Che poppy Prova nei confronti Della regina Però Poppy appunto Abbiamo visto Che è una persona In teoria Che non Sta alle regole Non vuole rispettarle Non si fa rinchiudere In camera Fai la calzetta Quindi Lealtà o non lealtà Se tu credi Che essere la vergine Prescerta Sia inutile Vaffanculo Cioè Trovi un modo Per non farlo più E invece Dopo vedremo Che Non lo fa In ogni caso Loro continuano A stuzzicarsi Lei si aspetta Che lui Le dica Non uscire più Alla tua stanza Non fare cose Pericolose Eccetera Lui invece Se ne esce Con la prossima volta Che devi uscire Dimmelo Che vengo con te E vestiti Divinosamente Perché con quelle ciabatte Ti ammazzi E con quel vestito Scosciato Ammazzi me Vabbè Questo Soltanto per farvi capire Tutte le frasi Che lui dice Che sono Imbarazzanti Il giorno dopo L'attacco Il duca E la duchessa Chiamano il loro popolo Per incolparli Praticamente Gli dicono Che l'attacco De Craven È colpa loro Perché I due signori Di prima Avevano voluto Chiedere Di salvare Cioè Di non dare Agli dei Il proprio figlio Quindi Cattivi 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 E A questa cerimonia Un caduto Fa il suo ingresso Urlando E lancia Una mano di Craven Contro La Vergine E appunto L'uomo dice Che Quello che stanno dicendo Il duca La duchessa Sono solo menzogne Che non fanno niente Per proteggerli In ogni caso Viene portato in cella E tanti saluti E qua Iniziano a farsi Delle domande Sul perché I Capi Cioè Quindi I nobili Non facciano vedere Alle famiglie I figli Visto che Sarebbero tutti Molto più calmi Se potessero rivedere I figli Qualche tempo Vi lascio Da soli A mettere insieme I pezzi Perché è abbastanza Ovvio Alla fine Stanno questi Pargoli Andiamo Al momento Clou Ovvero Il rito Io all'inizio Pensavo che Il rito L'ascensione Fosse la stessa Cosa In realtà Il rito È il momento In cui I genitori Portano I loro Bambini Tredicenni Perché Vengano Portati Agli Dei È tra le cerimonie Più importanti Partecipano Tutte in maschera In pratica Dopo che i genitori Hanno consegnato I propri riti Le lady E i lord Si danno La pazza Gioia Ok Essendo Un avvenimento Così importante Il duca Ovviamente Dovrebbe Partecipare Ma Quella sera Stannamente È in Ritardo In grave Ritardo E non Arriva Mai Alla cerimonia Però Il tutto Si svolge Va avanti E in pratica Se ne fottono Che il duca Sia assente La dama Di compagnia Di poppy Ovviamente Sta sempre Di fianco a lei Solo che poppy Si sente in colpa Perché lei Non ha tutte le restrizioni Infatti Anche se Poppy Può partecipare Alla festa Può mettersi Un vestito normale E una maschera Come tutti gli altri Però Comunque Non deve parlare Con le altre persone Poppy Invece Tony Invece Potrebbe Quindi A un certo punto Poppy Dice No guarda Sono stanca Tu vai a divertirti Io torno Nei miei alloggi La sta In quel momento Guardando Ok Perché Vitter Doveva Parlare Con il comandante Quindi Ok La porta Fuori dalla stanza Poi Le dice Guarda Lo so Che non vuoi tornare Nella tua stanza Andiamo nei giardini Facciamo un giro lì E la porta Sotto un salice Lontano da tutti E Insomma Limonano Male Limonano Proprio Male E Uno pensa Che Da lì A trovarsi In mutande Il passo Di sia breve E invece Poco dopo Ok Le dice Di Tornare Nella propria stanza Forca troia Stanno per Stanno tornando indietro Quando Si ritrovano Faccia a faccia Con Vitter Che li guarda Per tre secondi E capisce Che i due Avevano fatto Robacce E Li sgrida Sostanzialmente Li sgrida Lei Tipo con noncialanzi Cioè Non è successo Nulla Vitter E lui Le risponde Che questa cosa Sarà le cose Il mondo Stronzate Stronzate poppy Hai l'aria Di essere Stata baciata Per bene Spero Sia solo Questo Mamma E La conversazione Va avanti E lui Dice Non mentirmi Stiamo tornando Indietro Per andare Nella mia stanza E tipo Non stai Migliorando La situazione Non stai Migliorando Per niente La situazione Manda via Ok La sta per riportare In camera Quando Si sentono Delle grida E Torno Nella sala Principale Vedono che C'è Praticamente Una sfilata Dei caduti Che Stanno Protestando E Le vetrate Vengono Fatte Esplodere Ci sono Un sacco Di morti Ci sono Un sacco Di scene Creepy Con Schegge Di vetro Che spuntano Da ogni Orifizio E Da ogni Poro Della pelle E Tra l'altro Entrati Vedono che Il soffitto È semi Crollato Che Appeso Al soffitto Con la verga Conficcata Nel cuore C'è proprio Il duca Tra l'altro La verga È proprio La verga Che il duca Usava per picchiare Cosina E quindi Scopriamo Che è stato Ammazzato Le guardie Della duchessa Victor Portano La duchessa E gli altri nobili Al sicuro La duchessa Non si sa per quale motivo Si impone Per rimanere chiuso In una stanza Dove però Vengono attaccati Tre secondi dopo Nello scontro Victor rimane ucciso Poppi Che ovviamente Vuole difendersi Tira poi Il pugnale E inizia ad ammazzare Cremen Credo A questo punto Non mi ricordo Chi li stia attaccando Ma poco importa E con loro C'è anche Lord Misen Quando Praticamente La battaglia Sta per finire Lord Misen Dice una cosa Di troppo E Poppi Gli stacca la testa Le braccia Qualsiasi cosa Avesse attaccato Al corpo Finchè non arriva Hawk La ferma Le impedisce Di fare Qualsiasi cosa E la porta via Perché ormai L'attacco è finito E hanno rimesso Tutto in pace Cosina Rimane Praticamente Svenuta Per giorni E pian piano Si riprende E una volta Tornata All'umanità La duchessa Le dice Che la regina L'ha chiamata Immediatamente Nella capitale Perché rimanere lì È troppo pericoloso Il problema È che Il Un sacco di soldati Sono rimasti uccisi Nell'attacco E quindi A scortarla Sarà solo Hawk Kieran Che era il suo amico Dell'inizio E Altri 3-4 guardi E un cacciatore Fin da subito Capiamo Che le scene Di stop porn Che ci sono mancati Fino ad adesso Arriveranno adesso Infatti Poppy cavalcherà Nella stessa sella Di Hawk Davanti a Hawk Quindi insomma Viaggi interessanti La prima notte Si accampano Nella foresta di sangue Dove ci sono topi giganti Oltre che Ai Craven E Io mi aspettavo Che a questo punto Vi siano già attaccati E invece Non succede Però Succede dopo Quindi va bene Lei è per terra Stesa Che sta morendo Di freddo E per Invece che dormire Appunto Congela E quindi Hawk Si stende Di fianco a lei E le mette Un braccio Attorno alle spalle E dice Tipo Scommetti Che ti farò dormire Come mai dormite Nella tua vita E insomma Le fa le cosacce Quando si sveglia Vede Hawk Che sta parlando Con Kieran E lui Gli dice Palesemente Tipo Ehi ma guarda Che ho visto Quello che hai fatto Ti ricordi Che abbiamo Una missione Quindi Cioè Si potrebbe pensare Che sia per il fatto Che lei è una vergine Però è abbastanza Palese Che loro abbiano Una missione Per conto loro Che è iniziata Da un sacco di tempo Comunque Passiamo avanti Veloce Qua vengono attaccati Dai Craven Dai Dai Cosi giganti Dai ratti giganti Però a noi non importa Andiamo avanti Giungono a un villaggio Che da subito Sembra strano Praticamente Appena arrivano Dei bambini Vanno a chiamare Altri bambini E in breve Si forma una folla Attorno a loro Per vedere la vergine Inoltre Quando entrano nel castello Il duca E i nobili Non ci sono Viene detto loro Che sono andati a caccia E Li accolgono Delle persone Che sono molto simili A Hawk Quindi vabbè Io avevo pensato I suoi genitori Perché sono scema Però Mi ero dimenticata Che l'oscuro Era il principe castle Quindi i genitori Sarebbero Però vabbè Mi ero fatta Viaggi che non avevano Un senso E vabbè Prima di capire Che cosa sta succedendo Poppy viene portata In camera Per farsi un bagno Alla sera Viene raggiunta Da Hawk E finalmente I due Consumano E vi risparmio Tutti i loro Dialoghi Che porca vacca Praticamente Sembra che stiano Prendendo un caffè Al bar Invece Cioè Non lo so Ma perché devi parlare In quel momento Ma non avevi Prima di addormentarti Prima di iniziare Non ti piacevano Altre occasioni Per parlare E tra l'altro Lui se ne sta Per andare Dalla stanza E lei Che gli chiede Di restare E di dormire insieme E vabbè Comunque Si alza la mattina dopo E Hawk Se ne va Perché deve risolvere Delle cose E la lascia A dormire in camera Poche ore dopo A raggiungerla È Philip Che è un altro Dei soldati Che la stava accompagnare Che la stava Che la stava Accompagnando E le dice Che secondo lui Kircher E Hawk Nascondono qualcosa Perché Quel posto è strano E bla 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 E quindi Pensa che Kircher E Hawk Siano dei caduti Lei Che ha il cervello Di una gallina Al momento Dice Kircher Di sicuro Hawk No Devo avvertirlo Però Si fa portare via Da Phyllis Per raggiungere I cavalli E gli altri soldati Che li stanno aspettando Per scappare Il problema È che Sulla porta Incontrano Kircher Che li vede Viene ferito Da Da Philip E Cosina Sente di nuovo Quel ruggito Che va sentito Dal caduto Quando Rylan Era morto Quindi capiamo Che Quel caduto E Kircher E Hawk Devono essere In combutta Insieme E in Tre secondi Kircher Si trasforma In Un lupo Perché non vi ho detto Che Oltre agli Atlantiani Oltre agli Ascesi Oltre agli Craven Esiste anche Un'altra razza Che sono I licantropi Stile Twilight Ovvero Essere umani Che si possono Trasformare Da lupo A essere umano E quindi Li attacca Loro scappano Riescono a raggiungere Scuderie Però in quel momento Arriva anche Hawk E riesce A fermarli E Phillips Viene Ucciso Invece Invece Poppy Viene Messa In Una Cella Tra l'altro Poppy ci rimane Di merda Perché a uccidere Phyllis Sarà Proprio Hawk E quindi Tutte le sue Speranze Del fatto Che lui Fosse Buono O che Non fosse Un caduto Sono Andate E Tra l'altro Gli amici Di Hawk Stanno già Per ucciderla E lui Li ferma E gli dice Che Gli serve Viva Mi sono Presa Una veloce Pausa Perché Sennò Io Impazzisco Muoio E Dicevamo Quindi Lei viene Messa In Gabbia E lui Va Da lei Dicendo Dobbiamo Parlare E lei Che Vi ricordo Non voleva Essere La Vergine Sempre È stata Trattata Come Praticamente Una Prigioniera Non poteva Fare Niente Veniva Picchiata Quando Infrangeva Regole Che Non Esistevano Praticamente Per tutto L'inizio Del libro Ci viene Detto Che Lei Le cose Che fa Le fa Perché In fondo Vuole Essere Beccata Perché Così Non sarebbe È stata Più La Vergine Quando Ha fatto Le cosacce Con Oak Che Stava Già Pianificando Di Andare A chiedere La Regina Di Farle Il favore Che Aveva Fatto Sua Madre Quindi Non Farla Scendere E Adesso Che Scopre Che Oak E Gli Altri Sono Dei Caduti Quindi Che Non Stanno Dalla Parte Della Regina Quindi Non La Costringeranno Ad Inizia A Fare La Bambina Perché Oak L'aveva Presa In Giro Quando Porca Di Quella Vacca Lei Dal Primo Incontro Le Si È Buttata Addosso Proprio Tutto Così Cioè Allora E Vabbè Qui A Questo Punto Noi Abbiamo Capito Proprio Palesemente Che Lui È Anche L'oscuro O Il Principe Castle Lei Non L'ha Capito Anche Perché Gli Altri Vogliono Ucciderla E Mandare La Testa Alla Regina Come Messaggio Lui Invece Si È Imposto Che La Vuole Tenere Con Sè Nonostante Deba Affrontare Delle Rivolte Facendo Così Vabbè Prima Della Spiegazione Ciona Ci Viene Detto Che Lui Alla Notte Della Parla Rossa Sapeva Chi Lei Fosse Che Fosse Sottamandata In Camera Apposta Perché Si Incontrassero Però Questa È Una Cazzata Proprio Ti Hai Dimenticata Quello Che Hai Scritto Perché Lei Era La Perla Rossa Perché Era Scappata Dalla Stanza Quindi L'unica Persona Che Sapeva Questa Cosa Forse Era Tony Ma L'unica Che Poteva Sviarle Dare Questa Informazione Era Lei Però Lei Non Ci Viene Detto Che Fa Parte Di Questa Scorribanda E Perché Tony Era D'accordo Con Tutto Questo Ha Un Senso Altrimenti Non Ha Senso Che Loro Fossero Già D'accordo Perché La Mandassero Da Lui La Perla Rossa In Ogni Caso Oak Gli Racconta La Verità Sulla Guerra Dei Due Re Su Tutto Il Regno Cosina Scopre Anche A Questo Punto Che Oak È Un Atlantiano Scopriamo La Vera Storia Ovvero Oak Confessa Che I Craven Sono Stati Un Loro Errore Però In realtà Non È Stato Un Loro Errore In Ogni Cosa C'era Questo Re Che Si Chiama Malek Che Aveva Un Amante Mortale Di Cui Era Follemente Innamorato Non Si Sa Se La Moglie Del Re O Qualcun Altro Comunque L'ha Avvelenata Quindi Re Malek Se N'è Fregato Sangue Trasformarla In Quella Che I Protagonisti Di Questo Libro Chiamano Ascesi In realtà Si Chiamano Vampri Già Vampri Vampri Scrive Vampiro Faceva Troppo Brutto Quindi Visto Che Si Potevano Creare Sti Vampri La Regina Quella Cornuta Ha Deciso Che Di Crearne Sempre Più Il Problema Che I Vampri Si Devono Utilire Di Sangue Umano E Se Non Ammazzano Male La Vittima Creano Dei Kraven Quindi È colpa Loro Se Ci Sono I Kraven Invece Gli Atlantiani Nascono Mortali Poi Però A Certo Punto A Una Certa Età Avviene La Transizione Diventano Immortali Solo Che I Vampri Solo Che Gli Atalantiani Non Hanno Bisogno Di Sangue Umano Perché Allora Non Farebbe Niente Loro Hanno Bisogno Di Altro Sangue Atalantiano Quindi Se Lo Scambiano Tavolo Sono A Posto Invece I Vampri Rischiano Di Diventare Assettati Di Sangue Eccetera La Regina Quella Che È Un Cervo Reale Più Che Una Regina Riesce A Esiliare Il Re Con La Sua Nuova Compagna Vampri E Si Risposa E Crea Il Regno Di Solis Che È Quello In Cui Vive Cosina E Quindi Fanno Credere A Tutti Che Sono Gli Dei A Trasformare Le Persone In Ascese E Invece Si Scopre Che Gli Atlantiani Sono Tenuti Prigionieri Per Creare Altri Ascesi Come Abbiamo Detto Gli Ascesi Però Devono Bere Sangue E Come Fanno Fanno Che Prendono I Terzogeniti O Quel Che E Li Mangiano E E Oak Spiega Anche Che Lui Era Stato Prigioniero Per 500 Anni E Che Faceva La Fine Di Un Aranci Uno Spremianumi E Veniva Usato Per Creare Altri Ascesi Ah E Inoltre Gli Ascesi I Duchi Le Duchesse E Cetera E Il Re La Regina Usano I Kraven Per Tenere A Bada La Popolazione E Appunto Questa Spiegazione È Assolutamente Logica E Non Priva Di Senso Ma Lei Assolutamente Non Ci Vuole Credere Oak Era Riuscita A Scappare Perché Suo Fratello Era Andato A Salvarlo Il Problema Che Per Salvare Lui Suo Fratello Era Rimasto Intrappolato Quindi Il piano Originale Era Usare Poppy Per Fare Uno Scambio Di Prigionieri Al che Poppy Ci rimane Ancora Più Male Che Io voglio Dire Cioè Fai Pace Con Cervello Vuoi Tornare Dalla Regina Oak Ti Ha Tradito Pace Bene Di Vabbè Portami Staccazione Regina E Vattene A fare In culo Invece No Lei Se la Prende Anche Per Quello Quindi Se la Prende Perché Non Vuole Stare Lì Se la Prende Perché Non Vuole Sare Riportata La Regina Se la Prende Per Qualsiasi Cosa La Bambina In Porta In Una Stanza Più Comoda Invece Che La Cella Il Problema E Che Gli Altri Suoi Alleati Tra Cui Anche Quello Che Aveva Cercato Di Rapirla Nel Palazzo All'inizio La Vogliono Uccidere Quindi Mentre La Stanno Trasportando Vengono Attaccati E Oak Riesce Ancora Una Vota A Salvarla Ma Lei Sta Per Morire E Quindi Oak La Porta In Camera E Le Da Il Suo Sangue A Questo Punto Noi Ci Aspettiamo Che Si Trasori Una Vampire E Invece Non Succede Perché Non Per La Scoperta Che Faremo Dopo Ma Perché Oak Dice Che Deve Avere Un Ruolo Più Attivo Lui Però Se Hai Detto Che Per Trasformare Gli Ascesi Prendono Il Sangue Da Poveri Disgraziati Tenuti Basso Il Sangue Cioè Gli L'hai Dato Buona Vabbè Non Lo So In Ogni Caso Lei Non Muore Il Sangue Di Lui In Circolazione La Fa Arrappare Come Neanche Un Cervo Nella Stagione Degli Amori Ma Lui Non Vuole Approfittarne E Appena Lei Si Riprende Vede Un Coltello Appoggiato Lì Di Fianco A Oak Gli Salta Addosso La Insegue Nei Boschi La Blocca E Le Beve Il Sangue Incazzato Nero E Qua Lui Si Riprende Quindi Se Lui Si Ripreso Col Sangue Di Lei Noi Abbiamo Capito Che Lei È Esatto È Una Atlantiana Perché Se Vi Hai Detto Tre Pagine Fa Che Il Sangue Dei Mortali Agli Atlantiani Non Serve A Niente Vuol Dire Che Se Tu Sei Guarito Col Sangue Di Lei Guarito Col Tuo Senza Trasformarsi Da Vampri Questo Vuol Dire Che Siete Entrambi Atlantiani Lei Però Non L'ha Capito E Fatto Sa Che Qua Fuori Lei Di Ci Si Butta Addosso Cioè Lui Lui Non Stava Facendo Niente Lei Comunque Cioè Fanno Le Cose Fanno Le Cose Anche Qua Fuori Al Gelo Perché Lei Evidentemente Non è abbastanza Arrabbiata Non so Che altro Dire Quindi Uno dice Ok Dai Hai fatto Un attimo Pace con Te stesso Hai pensato Con te stessa Hai pensato A quello Che hai detto Ha un senso Starai Dalla sua Parte Adesso Starai Dalla sua Cazzo Di parte Perché È l'unica Parte Che ha Un senso Ed è l'unico Che non Ti tratta Come un Cazzo Di Cioè È palese Che non La fa Uccidere Che Forse Non la vuole Neanche portare Come scambio Di ostaggi Cioè È veramente Palese Lei che Non ci arriva E qua Parte Ovviamente Lui la riporta In camera E lei Se la prende Di nuovo Con lui E cerca Di fare Ostruzionismo Per ogni cosa Cerca un piano Per scappare Però Capiamo Che sono Solo parole Al vento E Dopodiché Lui va Con lei A dire Devi venire A cena Con me Lei Fa No E lui Ti fa Però Avrai fame Devi mangiare Vieni a cena Con me Anche perché Se vieni a cena Con me Gli altri pazzi Che vogliono Ucciderti Vedono Che Sei con me Se la fanno Un attimo Passare E A PS Ho ucciso Tutti quelli Che ci hanno provato Fino ad adesso Vieni a vedere Cosa ho fatto Comunque Lei Quando lui Dice questa frase Ovvero Devi far vedere Che sei con me Così Vuoi mettere D'accordo Con lui Voglio dire Ok Non ti ha detto La verità Però alla fine Ti ha forzato via Da una situazione In cui tu Non volevi stare Non ti ha fatto Del male Gli sei saltata Adesso tu 50 volte Puoi parlarci E smettere Di fingere Di avercela Con lui Vabbè La porta a cena Davanti alla stanza Della Sala Da pranzo Ci sono tutte Le persone Che l'hanno Hanno cercato Di ucciderla Pese Mezza e morte E lei Ci rimane un po' così Però Dopo dice Eh Dovrei sentirmi In colpa Ma non mi sento In colpa Perché mi hanno Trattato male Quindi posto Pace E bene E lui A tavola La fa sedere Alla sua destra E dopo Dice a voce Altissima Tipo Dobbiamo tornare a casa E lei Lo guarda Non capendo Dice Casa Quale Mi riporti A me Zodonia Mi porti Nella capitale Dalla regina Dove stiamo andando Fammi capire E lui dice No ad Atlantia E lei Non è casa mia E lei dice Perché E lui Questa è la cosa Più romantica Che esiste Al mondo Le dice Perché È noto Che gli atlantiani Per sposarsi Devono essere Nel proprio Regno E il libro Finisce così Cioè Praticamente Lui le dice Che si stanno Per sposare E che lei È un'atlantiana Con questa frase Fine Fine Il libro Finisce così Con questo colpo Di scena E con Questo Suspense E chissà Quando succederà Nel prossimo libro Non lo scopriremo mai Perché non mi interessa Abbastanza E Con tutti i problemi Tecnici Che ci sono stati In questo video Se non siete arrivati Fin qua E se non andate A lasciare un mi piace Io vi vengo A cercare A casa Madonna Che fatica Comunque mi dispiace Davvero per l'audio Però si trattava Di rigirare Il video Per la terza volta Questo è un libro Trash Quindi Anche se l'audio Non è il massimo Fate finta Che sia tutto Compensato No Cioè Tutto insieme Perché il libro È trash Che l'audio E fa C'è da dire Che questo libro È meno peggio Degli altri Nel senso Che Certo Lui è un po' Sturfone Ha qualche frase Che sarebbe evitabile Lei è la santarellina Di sto cazzo Però La motivazione Per cui è una santarellina Ci può anche stare E Lui non fa niente Di grave Nei suoi confronti Come ad esempio Faceva il tipo di Nel modo in cui Cade la neve O molti altri Che si vedono In questi generi Quindi Alla fine Cioè Il mondo fantasy Creato Fa acqua Da tutte le parti Che Neanche lo scolapasta Però Per essere appunto Questo genere Molto leggero In cui La parte più Importante In realtà È la storia d'amore Ci può anche stare Dai Sono sfinita Ho fame Sono stanca Che è un sinonimo Della prima frase Ma non importa Lasciate un mi piace Commentate Condividete il video Andate a iscrivervi E noi ci sentiamo Al prossimo Ci vediamo Al prossimo Ciao Ciao